Senti, io vado a camminare un poco, tu... No, no, non ti preoccupare, Tonia. Magari quando avrai finito di riordinare la biblioteca. Per carità, non potrei mai farmi inghiottire dalla montagna, troppo pericoloso. Bisogna solo dormire, respirare piano. Ma anche stare qua in amica, Tonia! Ma perché tuo padre ti lascia da sola in casa con un uomo? Un bravo ragazzo, cantoni, grande famiglia, gente seria. È vero. È vero. Grazie.